Ragazzuoli e ragazzuole, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video di Fortnite! Oggi ragazzuoli vi porto una bella partitozza in ranked, ovviamente in solo al ranked elite e devo dire ragazzi che ultimamente con la nuova season è davvero impossibile fare delle partite normali e divertenti. Questo perché come saprete benissimo con l'arrivo della nuova season hanno aggiunto delle macchine che sono veramente fuori di testa, che non hanno veramente alcun senso e che richiedono zero skill. Infatti la maggior parte dei giocatori sono sempre tutti ed esclusivamente all'interno delle macchine o magari timbano anche con la persona che guida più quello che sta sulla torretta e comincia a sparare a tutta la lobby. Per non parlare dei guanti che sono veramente fortissimi perché puoi generare un box letteralmente in un secondo e richiede completamente zero skill e anche le splash nitro sono fortissime perché tu non puoi prevedere quando un avversario sta per generarti un box perché tu non vedi l'aura o comunque non riesci a capire se quella persona ha l'effetto del nitro o meno. Quindi diciamo ragazzi che questa season è iniziata veramente con il piede sbagliato e veramente tutta la community visto che si calamenta tutti i giorni perché non è assolutamente divertente e non va a premiare quelle persone che sono forti a giocare. Infatti ogni ranked che faccio è letteralmente macchine, 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 macchine. Non se ne può davvero più. Però ragazzoni mi raccomando prima di cominciare con il video iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate tanti pollicioni in su, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa non è la nuova season, mi raccomando siate sinceri e inoltre vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni sul mio canale Twitch dalle ore 17, quindi vi aspetto anche soltanto per un saluto. Ma ora ragazzi passiamo al video, vi auguro una buona visione. Oddio sì, la Bars viola, mamma mia. La Bars viola penso che sia il regalo più bello che possa ricevere su questo gioco. C'è proprio la Bars in generale. Pure il combat, vabbè GG. Sono pronta per andare a ammazzare tutti. In questi giorni sto utilizzando sempre il combat perché mi piace troppo, però ragazzi il pompa quello là, questo qui, rimane il più forte. No, tutto ma non mi scappi così. Se la mia cazzo di Predora devi morire e basta. Come generare i box, ragazzi. Sto pezzo di merda. Sto pezzo di merda. Ah, coglione di merda. Ma chi pensi di stare a parlare qua? I am the commander here, bitch. Ah, fa mocca all'anima di chi te strami la muort. Struns. Reazione più con essa, no? Che dita. Vedete, mi sono accorta che aveva fatto la splash e quindi mi sono allontanata. Però sì, te le devi accorgere. Se non te ne accorgi, cioè, sono cazzi, eh. Mamma, se mi s***o, frate! Mamma mia, se mi s***o! Se solo potessi, sì! Se solo potessi veramente effettuare questa cosa! Jesus fucking Christ! Siete con la mia preoccupazione che se avendo anche solamente uno di due... Cioè, un piccolo fall damage, sono morta. Oh, mi piace questo gameplay! È un gameplay molto interessante! Richiede veramente delle skill e delle potenzialità veramente passesche. Non lo fa, vero? Bel gioco. Ah, vuoi che questo gioco non ha senso. Corri, corri, fai il boost! Vai, Martina! Napoli, 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 Napoli! Ha fatto alla torre del Surge. Sei un co***o! Te lo giuro, sei proprio un co***o! Un c***o di android sei! Oh mio Dio, fra... Get the fuck out! Get the fuck out! Get the fuck out, bitch! Chat, dov'è la mia macchina? Eh no, raga, mi serve per forza per rivincere il game, ve lo giuro. Era sopra o qua sopra? Dov'era? No, raga, no, senza la macchina è veramente... Cioè, io ve lo giuro è un problema, eh. Vabbè, andiamo con questa, ragazzi. Credo che la mia era full percata. Devo spaccare la macchina. Se non spacco la macchina, per the game. Ok. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti